e ne trovati quanti oggi? e adesso dove stai andando? a raccogliere questo anche il crack, bellissimo, però bello a raccogliere questo con il mio amore, la fumatrizia Carlita è stato un po' di faccogliere, ma a raccogliere il mio amore a raccogliere il mio amore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti